Operazione congiunta della Polizia Locale di Battipaglia e della Polizia di Stato per arginare il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti. Otto agenti della Municipale e una dozzina della Polizia di Stato sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Battipaglia per stroncare sul nascere l'arrivo e la vendita di extracomunitari dediti alla commercializzazione di merce contraffatta. I controlli hanno portato al fermo di 11 persone, di cui 4 pakistani e 7 senegalesi, tutti accompagnati al commissariato di pubblica sicurezza per la fotosegnalazione e per la comparazione AFIS. La merce sarà inventariata e sequestrata dalla Municipale. Nel corso dell'operazione inoltre è stato fermato un nigeriano intento a svolgere accattonaggio davanti ad un supermercato. Anche per lui è scattata l'identificazione in commissariato.